Assessore Carla Mannetti, dimissioni del sindaco è un atto necessario? Sì, è un atto necessario perché si sta vivendo un momento particolare, come ha detto il sindaco, sia per quanto riguarda i rapporti con il governo, ma anche per quanto riguarda i rapporti con le forze politiche di maggioranza. È necessario fare quadrato intorno alla figura del sindaco perché, voglio riportare proprio le parole che ha detto lui ieri, si è perso l'entusiasmo che ci aveva guidato durante la campagna elettorale nel 2017 e che ci ha accompagnato per il primo anno. Adesso invece si è perso l'entusiasmo, si dà più importanza ad altro e si perde di vista l'obiettivo principale che è la città dell'Aquila. Ecco, è anche un messaggio però molto forte verso il governo, in particolare verso il sottosegretario Ucrimi che aveva promesso il decreto di inserire nel decreto Etna le risorse necessarie per sostenere il bilancio aquilano. Beh, il sindaco dopo l'ultimo incontro che si è avuto due giorni fa con il segretario effettivamente era molto provato perché è uno stilicidio, è una trattativa che va avanti da mesi, questi soldi non arrivano, il bilancio è rimasto sospeso e questo ha creato ulteriori tensioni e ulteriori stress nell'amministrazione di questa città. Ma sono notizie degli ultimi momenti, quelle che ci dicono che il sottosegretario Ucrimi avrebbe invece messo mano al decreto? Sì, il sottosegretario dopo che il sindaco ha annunciato e presentato le sue dimissioni ha fatto un comunicato stampa dicendo che le sue rassicurazioni erano fondate, che il decreto è pronto e a breve sarà approvato. Però queste rassicurazioni arrivano da mesi e io capisco che il sindaco è esasperato perché noi dobbiamo dare delle risposte alla città, ci siamo impegnati al massimo, lavoriamo notte e giorno però purtroppo senza alcuni passaggi le risposte ai cittadini non si riescono a dare. Assessore, dalle sue parole possiamo desumere che insomma c'è una crisi di maggioranza nonostante da alcune forze politiche si tende a evitare di parlare di crisi vera e propria? Sì, diciamo c'è una crisi, c'è un dibattito aperto e i partiti devono capire che è necessario fare quadrato intorno alla figura del sindaco perché è lui che rappresenta la città, lui che ci guida e quindi io credo che questa sia la chiave vincente per risolvere questo momento d'impasse.